un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito oggi c'è tornata a trovare una grande ospite e una nostra amica Giulia Lettragorietti ciao Giulia bentornata su Corriere dello Sport. Grazie, sono molto contenta. Come va? Tutto bene a parte questo caldo tutto bene. Ah vabbè dai è gestibile insomma. Sì sì, qua dentro sì. Qua dentro sì con l'aria condizionata si sta meglio decisamente. Allora Giulia, tu sei venuta qui oggi per raccontarci un film che ti vede tra le protagoniste di questo film che uscirà il 29 giugno al cinema si chiama Lo sposo indeciso ed è una commedia che io ho visto un paio di giorni fa e ti ho già detto ma mi ha sorpreso soprattutto perché è una commedia divertente però è una commedia che ha un finale, non possiamo spolerarlo però insomma fidatevi, ha un finale particolare che non ti aspetti e soprattutto nel suo evolversi, nel suo sviluppo ti fa prendere sempre strade strane, cioè è una trama un po' particolare. Ti fa fare un po' di autoanalisi. Anche molta autoanalisi esatto e soprattutto per noi uomini è anche una cosa un po' drammatica perché il protagonista, vabbè raccontiamo brevemente la trama, la vuoi raccontare te? Sì, certo. Vai, sei tantissima, ti vedo carica. Il protagonista è Tognazzi insieme a Ilenia Pastorelli e sono praticamente questi due personaggi opposti. Lui è un professore universitario e invece Ilenia è la ragazza che fa le pulizie dentro l'università dove lui insegna, si innamorano, lo sposo indeciso quindi sicuramente ci sarà un matrimonio e tutte le famiglie che si riuniscono. E poi durante, ovviamente non si può dire il finale, però diciamo ci sarà modo di riflettere, quindi è una commedia che alterna anche diversi generi e forse quella è la cosa che lo rende un po' speciale. Assolutamente, assolutamente. Allora, siccome tu non hai accennato ad una cosa che succede nel film, io non so se questa cosa si può dire, probabilmente non si può dire, quindi non la diciamo, però è una cosa che a me mi ha fatto soffrire parecchio diciamo, a noi, soprattutto a noi maschietti. Tu interpreti però appunto il ruolo di un'infermiera, giusto? Sì. E che è appunto la cugina della sposa, interpretata da Lenia Pastorelli e insomma questa cugina ha un approccio molto... Allora, la famiglia di Lenia Pastorelli dicevi che insomma sono due mondi diversi, quello di Tognazzi, il personaggio di Tognazzi e quella della Pastorelli. Lui è un insegnante di filosofia, quindi molto rigido, molto severo, molto antipatico anche se vogliamo, non è una persona simpaticissima nel film e invece Lenia è praticamente la ragazza che faceva le pulizie nel suo studio, si incontrano, si innamorano e decidono di convolare a nozze e lì però succedono cose che rendono questo matrimonio un po' complicato, un po' più con una serie di imprevisti diciamo. Basta pensare a il papà di Lenia nel film è Francesco Pannofino e Ornella Muti è la mamma e quindi noi siamo la la famiglia dei borgatari diciamo, quelli un po' più coatti, no? E il mio personaggio è, mi divertiva molto farlo perché nonostante lei fosse molto genuina, un po' coatta, al tempo stesso è l'unica della famiglia che ha studiato, quindi alterna questa fase dove vuole fare la maestrina a delle battute, non so, degli spondoni romani, che mi piace pure. Perché poi tra l'altro nel cast c'è anche Giorgio Colangeli, no? C'è Giorgio Colangeli che a un certo punto compare e fa un professorone con il quale tu ti trovi a dover dialogare, no? E comincia appunto a parlare di ossitocina, insomma di varie cose, ma tu queste cose le conosci? No ovviamente, proprio zero. Zero. Cioè tu non sei capace a fare cose di prima? No, io sono ipocondriaca al massimo. Ah, tu sei ipocondriaca, quindi proprio il ruolo proprio al tuo posto proprio. Però prima di iniziare a girare, cioè per capire quello che stavo dicendo, mi sono dovuta informare, mentre mi informavo leggevo tutte queste cose e pensavo, ma non è che mi succede pure no, no, Giulia rilassa di essere solo il film, perché se sento che qualcuno ha qualcosa, inizio a pensare, ok, non è che ce l'ho pure io e vado a fare tutti i controlli su Google, poi è una roba che non va fatta, assolutamente. L'ABC dell'ipocondriaco, non mai andare su Google a cercare, tipo, raffreddore perché ti compaiono, hai le ore contate, capito? E poi c'è questa maga fantastica che è Claudia Gerini e Gianni Denucci, che è la figlia di Tognazzi. E ci sta pure Stefano Pesce, che è il miglior amico appunto di Tognazzi. Quindi diciamo che il cast è molto, molto figo, si può dire, insomma, come dicono quelli esperti. Immagino che, insomma, vi siete molto divertiti, perché Ilenia Pastorelli è un personaggio veramente sui generis, no? Perché è così come la vedi al cinema, è nella realtà, insomma, una bella cacciarona, immagino. È stato molto bello incontrarmi con Ilenia. È la prima volta che lavoravi con loro? Sì. Con tutti quanti? No, con tutti. Sì, sì, è la prima volta con tutti. Quindi è stata la novità. Tra me e Ilenia si doveva creare questa sintonia che si è creata naturalmente e ci siamo divertite. Poi Ilenia è speciale. Molto. Allora, il film, tra l'altro, è diretto da Giorgio Amato. Ricordiamolo che, insomma, ha questo stile un po' suo. Lo vedrete, insomma, nella pellicola. Abbiamo un po' di difficoltà nel potervi raccontare tutto, perché ci sono vari colpi di scena, quindi non stiamo troppo a raccontarlo. Però, diciamo, è una commedia che può avere un buon successo. Certo, al cinema ci sono delle difficoltà, è ovvio, insomma, il cinema non sta passando. Un periodo, uno dei suoi periodi migliori, anche se secondo me sta un po' uscendo da un periodo buglio che ha attraversato fino all'anno scorso. E, diciamo, probabilmente può essere anche trainato questo film, anche da tanti altri film che usciranno adesso al cinema, insomma, in questa estate ricca di titoli. E la caratteristica che a me un po' ha incuriosito di questo film è che uno dice, vabbè, l'ennesima commedia che c'è al cinema. Invece qua cercavo anche di mischiare un pochettino, di fare anche una pellicola un po' sui generi, se vogliamo. Perché abbraccia varie, come posso dire, vari generi della commedia. Perché poi la commedia non è che dici commedia e ce n'è una sola. ce ne sono diverse, diciamo. E appunto, come dicevi te, fa anche riflettere. Perché ti fa anche pensare, ti fa mettere nei panni appunto del professore o di legna. Cioè, cosa faresti tu al posto loro, giusto? E credo che quando inizia il film lo spettatore non si aspetta che si metterà nei panni alla fine del film in quella maniera. Esatto, hai ragione, è vero. Allora, senti, una domanda però te la voglio fare. Tu credi agli incantesimi, alle pozioni, alle... no, non sei una che credevo. Secondo me no, però dimmi te. Allora, io credo molto nelle energie, faccio molta meditazione, credo che le pietre hanno anche una... danno un'influenza positiva sul nostro corpo, perché comunque è fisica, no? Però le magie... Proprio quella pozione che si beve, con un po' di sangue di rospo, se vogliamo... Per carità. No, non ci credo queste cose, però ecco, è bello perché è un po' grottesco e commedia, quindi ci sarà... Si esagera, certo, c'è un'esagerazione anche di tutto quello che si racconta. Però tu credi molto nel lavoro, infatti stai lavorando molto questo periodo, perché hai appena finito le riprese di un film, giusto? Che mi puoi dire? Un film internazionale? Sì, un film internazionale con Neil Marshall, che è un grandissimo regista, e l'abbiamo girato interamente in inglese, io ero l'unica italiana a Malta, e è un thriller, e uscirà penso in un giro di otto o nove mesi. Siamo tre donne protagoniste, con i uomini anche, e vabbè, di più dare non lo dico, però è stata veramente... è stata un'esperienza molto bella, perché un thriller non l'avevo mai girato, un ruolo completamente diverso da quello che ho interpretato in passato. Devo dire che ultimamente sto interpretando personaggi molto diversi l'uno con l'altro. Bello, no? Molto. Cioè, bella questa cosa che vari, insomma. Così non ti cataloga... vabbè, è troppo complicato, ti cataloga in un genere, insomma, no? Assolutamente. E poi, dopo la maternità, diciamo che le commedie sto facendo un po' di più, no? Si vede che il violante ha acceso questo entusiasmo verso il ruolo. Sì. Bene. Allora, senti, cambiando un pochettino argomento, allora, tu segui il calcio? Io sono della Roma, assolutamente. Però, no, guarda, lo possiamo dire, però una cosa la possiamo dire, senza che tiriamo troppi nei dettagli, perché tanto poi annoiano. Però tu, insomma, sei la compagna di Pietro Iemello, no? Che è un grande attaccante, lo dico io, però, insomma, per l'uno che dice che sei la compagna, magari è facile, però se lo dice anche uno che lo segue, è meglio. E che quest'anno ha fatto dei numeri assurdi nel Catanzaro. Lui, immagino, sia stato contento di tornare nella città in cui è nato, no? Perché lui è nato, lui è calabrese, insomma, di... Sì, sì, lui è di Catanzaro, proprio della parte Catanzaro-Lito più del mare. Esatto. Ma lui in realtà è voluto, cioè, è sceso di categoria all'epoca per tornare a casa, perché la sua missione era proprio quella di riportare il Catanzaro più su, no? E ci ha riuscito. E ci ha riuscito. Hanno vinto il campionato di Serie C, girano in C, quindi adesso saranno in Serie B e resterà a Catanzaro, non lo so, questo non si sa, se è a calciomercato, non te ne interessi giustamente, te ne stai alla larga da tutte le stesse di calciomercato, ci mancherebbe altro, e tu però hai deciso, insomma, di restare a Roma, giusto? Roma, Roma, sì, sì, sì. Perché sei legata, insomma, sei... Beh, a parte perché sono molto legata alla mia città, perché se devo lavorare comunque è più giusto che io stia a Roma, anche per dare una stabilità violante a nostra figlia, e perché poi ognuno, cioè l'amore è anche avere la propria identità, no? Quindi per quello che io ho fatto nel mio passato, cioè io sono comunque sempre stata un'attrice, fin da quando sono bambina, anche se ho iniziato per gioco, poi dopo ho studiato di più, è diventata una professione, però in qualche modo per seguire lui mi sarei dovuta annullare io e questo non è un esempio, secondo me, neanche positivo per mia figlia, oltre che per me stessa. Assolutamente. Tra l'altro io ho una grande stima di Giulia, perché mi piace molto il modo in cui tu ti approcci sui social, no? Perché tu sei una persona che non usa il social solo come mezzo per far vedere se stessa, quindi, no, per far vedere la macchina, la piscina, le cose, ma tu sei una che abbraccia anche molte campagne, anche molto importanti, no? Cioè tu l'hai fatto molto in questi anni. Ci tieni molto tu appunto a questo aspetto sociale, l'utilizzo sociale dei social? Molto. Scusa, diciamo di parole, ma come dovrebbero essere? In questo momento credo che sia veramente importante, soprattutto visto quello che stiamo vivendo negli ultimi tempi. Credo che i social debbano prendere una piega migliore e non necessariamente hanno una piega sbagliata, però negli ultimi tempi basta guardare questo povero bimbo che è morto, no? Tutto quel fenomeno TikTok o dei video assurdi che girano, io lo so perché ogni tanto violante guarda, mi chiede di guardare qualche me contro te o di insieme, eccetera, eccetera, fabbiano dei video e delle cose e dico aiuto, cioè forse dovrebbero essere anche regolamentati diversamente e credo che chi ha un po' di seguito, ok? Secondo me credo debba contribuire anche a dare dei messaggi positivi, no? O comunque è una cosa nella quale io ho sempre creduto tanto, da quando ho 18 anni che faccio questo, perché sarò bilancia, questo spirito diciamo prima della giustizia, comunque è una cosa che mi sta molto a cuore. Sono una donna e quindi tutte queste battaglie per la parità dei diritti, per la comunità LGBT, sono cose che vanno fatte e sì, mi appassiona condividerle, tanto chi mi segue lo sa che trova quello. Tra l'altro non solo nel mondo virtuale ma anche nel mondo reale, cioè insomma tu sei anche molto attiva anche sull'NNN, non soltanto sui social. Ah no, 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 beh sì è una parte della insomma della mia identità e mi viene spontaneo fare. Che ti fa onore, magari tutti fossero così insomma purtroppo, ma se ce ne fossero un po' di più di Giulia come te, insomma sarebbe sicuramente, i social sarebbero anche un posto sicuramente migliore. Grazie, grazie. Allora Giulia, io intanto ti ringrazio di essere stata la nostra ospeda, mi ha fatto un sacco di piacere rivederti, speriamo di venerci presto, magari quando uscirà questo film internazionale ci verrai ritrovare. Intanto ricordiamo l'appuntamento quindi nelle sale italiane, il 29 giugno. Il 29 giugno e insomma veniteci a vedere. Lo sposo indeciso, andatelo a vedere e vi farete un sacco di risate e uscirete dalla sala riflettendo tanto, anche questo è importante. Grazie a cuore Giulia, a presto, un saluto a tutti. C'hai problemi di cuore? Chiama la maga Cecilia che risolve qualsiasi tipo di problema. Oddio ma che sta bene a piove? Chi me legge l'oroscopo? Senta Don Michele per favore, per caso c'è un bagno da qualche parte che avrei un'urgenza. Asama, io ti avevo detto hai fatto una cazzata a lasciare giornata per questo cazzo di filosofo, ma che c'è dovevo fare con un filosofo in casa? C'è un'ombra nera che la circonda, qualcuno deve averle mandato una maledizione. E comunque come si dice? Sposa bagnata, sposa fortunata. Che sta succedendo? Ti fermi? Ma perché parli strana? Perché te sei persa questo. Che cos'è, una mattina? Eh no, un incisivo. Ma l'incisivo è il dente? Eh? Oddio non c'ho più il dente? Mo c'è pensato a tuo, vado a pie al supermastice, quello per i miei astrelle. Ma davvero fa che mi mette il mastice? Dimmi che hai cominciato adesso. No Edoardo, no, te l'ho detto, vado avanti così da quando sono entrato in bagno. Non sarà passata più di mezz'ora? Eh appunto. Ma davvero, ci ha ripensato? No, no, non ci ha ripensato, ha solamente un problema fisiologico. Cioè? Dice che non riesce a smettere di fare più. Ma stai accoglionando. Eccola qua. Ma che sei matta? Lo ricarichiamo pure, così non smette più. Daniela, ma che succede? Succede che non sei malato da qua. Ti hanno lanciato una maledizione. Oddio, la maledizione! Ricordati che la tua felicità dipende dall'infelicità degli altri.